Ad ogni comportamento illecito è affiancata una sanzione corrispondente e sarà possibile pagarla anche in lavori socialmente utili. È questa una delle novità del nuovo regolamento di pulizia urbana approvato dal Consiglio Comunale. Rispetto all'accattonaggio sono state individuate alcune zone dove adesso è vietato. Non sono quindi consentite richieste di elemosi in raccolta fondi, firme, denaro e offerte nelle aree adiacenti e dentro i centrometri, le scuole e le università e all'interno delle Mura Medicee, nel parco del Pionte, in tutte le aree adibite, a verde pubblico, nella piazza della stazione ferroviaria, nell'area del terminal bus, nella zona perimetrale dell'ospedale Sandonato e in quella degli ambulatori ASL. Entra infine nel regolamento e diventa quindi definitiva l'ordinanza anti-alcol nella versione dello scorso dicembre. Su tutto il territorio comunale H24 sarà vietato consumare bevande alcoliche nelle vie e nelle piazze pubbliche. Dalle 22 alle 7 è vietato vendere per asporto bevande alcoliche. Dalle 2 del mattino alle 7 è vietato anche somministrarle.